Allora, sono qui con SOLIDWORKS e ho un problema su questo assieme, cioè al di là dei rossi che qua bisogna sistemarli, cioè questi vincoli che c'è, cioè io cancellerei quei vincoli che non servono e poi metterò a posto qui, cioè non devo vedere rossi, vabbè, ma quello non è, il problema è questo, ok, se io vado qui, no, questo sembra un calitatore, ma in realtà non è un calitatore, manca la parte qua esterna che va, che si muove per andare a creare pressione anche sul mozzo, difatti se io vado, dunque qua è un Norelem 23.380, se io vado su, adesso dov'è che era, eh, proviamo qui, no, qui no, proviamo qui, oh, eccolo qua, sono andato sulla Norelem, e lui mi dice che è un shrink disc, ok, cioè in pratica fa la pressione qua, il taglio si vede qua, fa la pressione solo qua all'interno, difatti se io vedo il disegno, il montaggio è di questo tipo, cioè ho il mio mozzo fatto così, in questo modo tipo L, nel senso che comunque ha una superficie, ha un diametro esterno, per un certo tot più piccolo, vado a creare pressione su questo, a questo punto lo blocco, sia sull'albero, blocco, però il mozzo deve avere questa forma, dunque sul diametro esterno più piccolo dal mozzo, cosa che non è qui, assolutamente, è completamente differente, perché qui, se noi andiamo a vedere, in realtà io blocco, dunque non ho, se io vado a creare, non ho, diciamo, il cunio che mi permette di creare pressione anche al diametro esterno, e dunque, questo qua non va bene, bisogna cambiarlo, dunque differenza tra shrink disc e calettatore, dove devo andare a vedere in inglese come si chiama, vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.